Nella stagione dei ritorni anche la cultura si gioverà di un pubblico in presenza per la 19esima edizione del FLA Festival di Libri e altre cose, che si terrà a Pescara dal 18 al 21 novembre. Un'annata particolare non solo perché guarda già al ventennale del Festival, ma anche e soprattutto perché è dedicata ad Adelchi De Collibus, recentemente scomparso uomo di cultura ed assessore nel primo anno del FLA. I libri ci hanno fatto grande compagnia nei mesi più difficili del Covid e quindi torniamo a festeggiarli con un'edizione del Festival finalmente di nuovo in presenza. Sono più di 150 appuntamenti spalmati in quattro giorni. Darei priorità in questo momento, per farti una rapida sintesi, ai due spettacoli teatrali che abbiamo in prima serata, in anteprima nazionale, il giovedì 18, che sono quello di Remo Rapino, in veste anche di attore per la prima volta, e la Pasqua bassa, tratto dal romanzo di Antonio del Giudice, che sarà all'auditore un flaiano. Remo Rapino invece è allo spazio matto. Venerdì c'è Zampaione di Tiromancino, che si racconta tra parole e musica, un format tipico del nostro Festival, che negli anni passati ha visto protagonisti Vasco Brondi, Bruno Risassi e Eugenio Finardi, insomma un evento che funziona sempre tantissimo. Andrea Scanzi con l'omaggio a Franco Battiato sabato sera e poi domenica chiudiamo con la Guzzanti, ma gli ospiti poi sono veramente tantissimi. La città di Pescara è felice di portare avanti questa iniziativa che oramai da 19 anni è presente sul nostro territorio. Ci sono tanti artisti, ci sono tanti scrittori, ci sarà anche il festeggiamento del decennale della Fondazione Aria presso il teatro Lo Spazio Matto. Questo è importante perché anche associazioni e fondazioni che operano sul territorio trovano spazio e possono presentare le loro iniziative e essere presenti durante questo periodo di tempo nel quale viene organizzato il FLA.